E dedichiamo adesso questo articolo a Giulia Carnevali, diciamo che questo è solamente l'ultimo di una lunga serie, che dedichiamo alla corteggiatrice di Luca Speracchi. In quanto questa settimana la corteggiatrice si è definitivamente dichiarata per il tronista povero, diciamo che dalla scorsa settimana ha definitivamente abbandonato la via Andrea Damante. Onestamente qui nel blog pensiamo che Giulia Carnevali abbia unicamente tentato di fare ingelosire Lucas, e crediamo che quando in puntata disse che di Andrea non frega proprio unci era abbastanza sincera. Poi ovviamente vedremo come si svolgeranno le cose. Sicuramente Giulia Carnevali ha un'antipatia naturale per me Grigalo, diciamo quasi quanto Lucas per Andrea, vi diciamo questo anche per una ragione in quanto, generalmente nella sua pagina Instagram Giulia Carnevali manda dei messaggi inequivocabili di amore verso Lucas, questa volta invece mi sembra proprio, che la destinataria del messaggio sia proprio Maggie Galo, che la invita chiaramente a non imitarla. Insomma al massimo potrebbe essere una copia, non imitarmi saresti soltanto una brutta copia, ovviamente questa è solamente una nostra libera interpretazione del messaggio, che abbiamo trovato nella sua bacheca Instagram, come potete vedere il nome Maggie non compare mai.